Anche il Munda e il Museo Nazionale d'Abruzzo aderisce alla Festa dei Musei e Notte Europea dei Musei. Sfoggiando una parte della magnifica collezione del museo regionale, tra cui la statua di San Sebastiano di Saturnino Gatti del 1517, tornata al suo splendore dopo un sapiente restauro, il museo apre le porte gratuitamente al pubblico. Non solo abruzzesi, ma diversi visitatori stranieri hanno raccolto l'invito. In questo sabato 18 maggio, i musei complessi monumentali e le aree e i parchi archeologici proporranno un ricco calendario di iniziative e di attività aperte al pubblico. Come tema di riflessione per la giornata, la Direzione Generale dei Musei condivide con ICOM Italia il tema della Giornata Internazionale dei Musei come hub culturali, il futuro della tradizione. Una traduzione italiana del tema proposto per la Conferenza Generale di Chiotto del 2019. La sera molti istituti aderiranno alla quindicesima edizione della Notte Europea dei Musei, con tre ore di apertura straordinaria serale e ingresso al costo simbolico di un euro. In Abruzzo aderisce all'iniziativa Oltre al Munda anche il Museo Villa Frigeri di Chieti, l'Abbazia di Santo Spirito del Morrone a Sulmona, il Museo Casa Natale di Gabriele D'Annunzio a Pescara con l'iniziativa Una favola al museo e 600-900. A Teramo aderirà il Museo archeologico nazionale di Campli con cultura e culture. Il Polo Museale dell'Abruzzo ha intanto avviato anche un'altra attività, che è l'Aquila Città d'Arte. 16 neolaureati in materie legate all'arte dopo una lunga formazione stanno svolgendo una campagna di divulgazione e sensibilizzazione alle bellezze del territorio della provincia dell'Aquila attraverso la somministrazione di un questionario per raccogliere adesioni ma anche sollecitazioni per valorizzare il patrimonio culturale artistico.